Lo scorso 24 maggio aveva salvato un sessantenne caduto in acqua con l'imbarcazione all'altezza di Saccafisola, nell'isola della Giudecca. Oggi Cristiano Bonora, pilota 59enne di Veritas, detto Doge, è stato premiato a Caffarsetti con un gagliardetto della città di Venezia. Stavano a spando e il solito vado io, vai tu, alla fine non andava nessuno. Ho visto una ciambella in acqua che non è servita a nulla, ho visto una cima che non è servita a nulla, mi sono avvicinato con la barca, l'ho preso, l'ho raccolto e l'ho tenuto su quella trentina di secondi finché poi è arrivata una barca di sommozzatori che in tre hanno fatto manovra e l'hanno tirato su e l'hanno messo in salvo. Penso che altri 20 secondi, forse meno, non ci sarebbe stato più nulla da fare. È il minimo che l'amministrazione vuole fare e compiere con questo gesto della consegna del gagliardetto della città di Venezia per un gesto unico come quello di Cristiano che è il fatto che ha salvato una vita umana. Da fine 2021 a oggi sono 14 i cittadini a cui è stato consegnato il gagliardetto per essere intervenuti in un momento d'emergenza dimostrando grande altruismo e senso civico. Nello specifico tutti hanno salvato qualcuno in seguito a una caduta in acqua causata da un malore o da un incidente.